Lo spirito con cui questa squadra interpreta tutte le partite incarna proprio la mentalità dei napoletani. Si può anche perdere, però non vogliamo mai, si corre, si lotta. Avevo promesso, questa squadra aveva un'anima, mi sembra che in due anni l'anima si sia vista. Con i tifosi ho un rapporto speciale dal fatto di una rivalza sociale, lì è il nord, il potere, e credo che da queste parti si veda sotto questo aspetto, questa grande rivalità. E uno che fa il professionista e viene a lavorare per il Napoli, tutto questo lo inorgoglisce, mi dà ancora quella carica emotiva per combattere. E quindi è bello, bellissimo, bello fatto. Il Napoli che si avvicina più al nostro Napoli, quello attuale come spirito, come entra in campo, quello che ho capito è, credo, assomigli molto al Napoli di Venicio. È un Napoli che comunque cerca il risultato attraverso il gioco. Io ho un gruppo di giocatori eccezionali che stanno dando l'anima per noi, per me come professionista, ma soprattutto per voi, non mollano mai e sono contento dei giocatori che sto allenando. Farei un torto a loro se dovessi dire qualcosa. Se proprio, devo dire, ha tolto Maradona un campione che è stato a Napoli di quei tempi come tipologia di calciatore, a me piaceva tanto carica, però in questo momento sono contento dei miei.